Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo alle 5 e mezzo stanotte hanno divelto un infisso e sono riusciti ad entrare dal primo piano e hanno avuto accesso al piano di sotto dove sono riusciti a portare i contenuti della vetrina che noi esponiamo verso l'esterno, quindi orologi Rolex, e della gioielleria all'interno delle vetrine. La dinamica non è precisa, ci saranno le telecamere e gli inquirenti che seguiranno quelle che sono le procedure. Quello che noi possiamo dire è che è stato un furto abbastanza veloce perché evidentemente dei professionisti che sapevano come muoversi, soprattutto le dinamiche per l'accesso alle nostre sicurezze, niente di più. L'armi delle alte tecnologie con la videosorveglianza, quindi abbiamo intercettato chiaramente la persona e purtroppo provvista di guanti, il capucciata con quello che loro sanno fare. Quindi sarà difficile, però comunque sia i nostri allarmi sono scattati perfettamente, è stato forse proprio quello delle allarmi di alta tecnologia che hanno permesso di fare un furto molto relativo nel senso dei tempi per l'arrivo delle forze dell'ordine. Emergenza freddo e marginalità, se ne è parlato ieri sera durante l'ultima puntata del settimanale di approfondimento Parliamoci Chiaro. Tra gli ospiti l'assessore al sociale Luigi Biancalani che ha parlato anche della casa per i padri separati che presto sorgerà in via Fiorentina. La struttura di accoglienza per padri separati in via Fiorentina sarà pronta a inizio anno. Ad anticiparlo è l'assessore alle politiche sociali del comune Luigi Biancalani, ospite della puntata di ieri sera di Parliamoci Chiaro. Un luogo sicuro nell'ex asilo vicino alla misericordia di Grignano in cui i padri separati che non sanno dove andare possono trovare riparo e passare del tempo con i propri figli. Abbiamo già fatto un bando di gara per cui pensiamo l'anno prossimo, all'inizio dell'anno, di inaugurare una nuova struttura che è stata già messa a gara appunto, in cui per dare dimora, sempre dimora e quindi anche un sollievo notturno, diciamo, ai padri separati. A breve partiranno anche i lavori di ristrutturazione della sede storica di Via del Carmine dove è collocato il dormitorio gestito dall'Associazione La Pira. Il dormitorio La Pira dovrà essere spostato perché inizieranno i lavori a Palazzo Pacchiani. Per cui stiamo lavorando per aumentare i letti che verranno temporaneamente chiusi a Palazzo Pacchiani. In Via Roma, appunto, Via Roma 99 verranno raddoppiati i letti che ci sono in Via Roma 99 e ci stiamo appunto lavorando in questo periodo. E a proposito di emergenza freddo, anche alcune parrocchie di periferia si sono attrezzate, tra queste Galcetello che dallo scorso anno ha attivato un dormitorio notturno con quattro posti letto. Come hanno raccontato il parroco Don Andrea Cerretelli e uno dei volontari coinvolti, Francesco Rossi, durante la trasmissione. Una stanza della parrocchia che era della San Vincenzo, ecco, l'abbiamo attrezzata con letti, il bagno, la doccia per il ricovero notturno che è partito appunto da un anno. Abbiamo accolto una quindicina di persone, qualcuno si è reinserito nella società, ha ritrovato lavoro, quindi è riuscito a uscire da questa situazione, altri purtroppo no. Appena le temperature diventeranno più rigide, sicuramente riapriremo. Anche se è una struttura piccola, comunque noi ci teniamo a non lasciarli soli, le persone vengono accolte ma a fare un po' di servizio con loro, quindi chi ha voglia di venire a vivere queste esperienze è ben accetto. Uno sportello informativo per l'integrazione al Macrolotto Zero, un'equip mobile di mediatori linguistico-culturali nelle zone a maggior presenza di cittadini stranieri e incontri di formazione per gli operatori sociali. Le novità grazie ad un bando del Ministero dell'Interno vinto dal Comune di Prato. Il Comune di Prato è arrivato primo in graduatoria nell'avviso pubblico su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 del Ministero dell'Interno e ha ottenuto così un finanziamento di 200.000 euro per il progetto Space. Un progetto grazie al quale sono organizzate tre giornate formative per operatori sociali, la prima delle quali stamani al PIN e del prossimo febbraio saranno realizzati quattro punti di incontro e ascolto per comunicare e orientare i cittadini stranieri sui servizi locali e sull'accesso alle opportunità formative e occupazionali. Uno sportello fisico con apertura tre giorni a settimana per quattro ore è previsto al Macrolotto Zero. Un'equip mobile composta da mediatori linguistico-culturali e operatori di strada sarà attiva al soccorso Serraglio e Macrolotto. Un sportello multilivello che verrà aperto fisicamente in una sede nella zona di Via Pistoiese dove oltre a dare informazioni e orientamento stiamo creando una rete di una serie di soggetti che potranno usufruire degli spazi per migliorare e implementare la comunicazione con la comunità migranti. In particolare ci stiamo rivolgendo ai sindacati, ai patronati e a colleghi del terzo settore e associazionismo. Uno sportello anche virtuale soprattutto per quanto riguarda la comunicazione con la comunità cinese attraverso il rafforzamento del canale WeChat e di una nuova app che si chiama Imo che serve soprattutto per la comunità pakistana o comunque più asiatica. Il progetto che si chiama SPACE e che coinvolge il Comune di Prato, Comente Capofila, il PIN, Oxfam, il Consorzio Coesuo e il Panerrose si inserisce in una linea che ormai da molti anni l'amministrazione comunale porta avanti che è quella di intercettare fondi tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario per migliorare l'integrazione tra tutte le persone che vivono qui. Un pomeriggio dedicato alle opportunità che il mondo digitale offre alle aziende. Quello che si è tenuto ieri ad Officina Giovani a promuovere l'iniziativa denominata Spinta Digitale sono stati i giovani imprenditori di Confcommercio di Pistoia e Prato ed Ecosistema Digitale per l'innovazione. Nel corso dell'incontro è stato presentato anche uno sportello di consulenza ed orientamento per le imprese attivo nei locali di Confcommercio di Via Valentini nel complesso del Prato City. Oggi è stato un pomeriggio di successo, vedere oltre 200 imprenditori incollati alle sedi, all'Officina Giovani per sentir parlare di trasformazione digitale ci riempie il cuore, ci dà il senso che stiamo realizzando un percorso veramente di valore. E' terminata adesso la parte plenaria, focus su argomenti specifici, fattivi che riguardano il marketing digitale, KPI e metriche piuttosto che lo strumento di social per promuovere le imprese. Da domani due sportelli Spina, Prato e Pistoia, saranno disponibili per le aziende che vorranno vivere la sfida con noi, una sfida culturale fatta di cambiamento, cultura e consapevolezza. Dove sarà attivo lo sportello Pratese e che tipo di servizi potrà offrire? Quindi sarà attivo nella nostra sede in Viale Valentini, sarà attivo su appuntamente, quindi con la possibilità di fare assessment per imprese in materia digitale, ma anche per analizzare i processi aziendali. C'è ancora un po' la percezione da parte di alcune imprese che investire in innovazione non sia poi così importante o comunque sia secondario rispetto al business? Sì, è un problema, vorrei dire, italiano. Il tema dell'innovazione viene visto sempre con una grande diffidenza e con una grande resistenza. È necessario e fondamentale per far crescere le nostre imprese. Innovazione non significa digitale evidentemente, il digitale non è il fine, è uno strumento. Dobbiamo imparare a conoscerlo per raggiungere meglio, attraverso processi di innovazione, performance di business che possano far migliorare le nostre imprese e renderle competitive su un mercato che evidentemente non è più quello intorno a noi, ma è un mercato globale. Un seminario per spiegare i benefici del nuovo censimento permanente dell'Istat che esegue annualmente. Sentite. I benefici del nuovo censimento permanente che l'Istat esegue annualmente su un campione di 1.400.000 famiglie in Italia è stato al centro del seminario in prefettura a Firenze, a cui hanno preso parte anche rappresentanti dell'Anci Toscana e delle istituzioni locali, per le quali i dati delle rilevazioni sulla popolazione è stato spiegato hanno un ruolo strategico. Dal punto di vista tecnico abbiamo relazioni quotidiane con tutti i comuni, con tutte le amministrazioni, ne abbiamo un po' meno con la parte politica, con la quale vogliamo interloquire proprio per illustrare il ruolo che i dati hanno sulle loro amministrazioni per poter prendere delle decisioni consapevoli. Dal 1861 sono state effettuate 15 rilevazioni ogni 10 anni fino al 2011. Il nuovo sistema non coinvolge più tutte le famiglie contemporaneamente, ma un campione che ogni anno tocca 2.800 comuni e integra la rilevazione con tutti i dati amministrativi disponibili. Quindi nonostante il cambiamento di paradigmi, anche il censimento permanente restituirà al territorio dati fondamentali per la progettazione di politiche locali. Le famiglie del campione scelto annualmente per il censimento sono contattate con una lettera dell'Istat o con un cartello affisso sulla porta. Aderire è un obbligo di legge sulla funzione strategica del censimento se soffermata Laura Lega, prefetto di Firenze. È un tema estremamente importante, è uno strumento strategico per la governanza nazionale, quindi per le politiche pubbliche nazionali e molto anche per le politiche locali. Quindi il ruolo delle amministrazioni locali su questo è fondamentale perché la conoscenza di quella che è la realtà del nostro paese e delle comunità consente di poter indirizzare al meglio quelle che sono le strategie. La scrittrice pratese Laura Nardi torna in libreria con un nuovo appassionante giallo. Dopo il positivo debutto lo scorso fine settimana alla 17esima edizione del Pisa Book Festival Il Fuoco Dentro verrà presentato ufficialmente a Prato. Domenica 17 novembre alle 15.30 alla libreria Feltrinelli di Via Garibaldi. Al termine della presentazione l'autrice si intratterrà nel pomeriggio con i lettori per il firma copie. Laura Nardi esordito nel 2015, Il Fuoco Dentro è il suo quarto romanzo, un giallo sorprendente dalla trama coinvolgente ambientato anche questa volta in Irlanda nella contea di Galway. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto a tutti, partiamo dal satellite, piuttosto eloquenti queste immagini, una circolazione depressionale interessa al Mediterraneo occidentale, sul fianco orientale scorrono umide correnti meridionali che porteranno piogge su gran parte del centro nord della penisola e anche dei temporali. La previsione per il pomeriggio e la sera sarà passata alla parte più attiva del peggioramento, sul nord ovest e sulla costa centro settentrionale rimarranno piogge abbondanti e locali temporali, soprattutto tra il Grossetano e le zone interne della regione. Domani il tempo andrà migliorando, qualche rovescio però atteso in mattinata, ancora residuo sulle zone di nord ovest, poi arriva un peggioramento, peggioramento arriverà soprattutto tra il pomeriggio e la sera, a partire questa volta dalle zone sudorientali della regione, province di Grosseto, Siena, Arezzo, verso quelle nord occidentali, tra il pomeriggio e la sera. Arriverà anche qualche debole nevicata in Appennino a quota intorno a 1.400-1.500 metri. Bene tutto, vi ringrazio dell'attenzione, una buona giornata. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci.